partiamo con il video ufficiale di pasquetta 2012 venite con me abbiamo capocuoco caldi in un attimo addetta verdure e attenzione alla novità del 2012 il motto di quest'anno ve lo ricordiamo e dopo un periodo ne viene un altro oppure volendo dopo un tempo ne viene un altro non ricordiamo il motto dell'anno scorso perché vietato i minori era comunque migliore non c'era ancora la crisi abbandoniamo la cucina ci ci muoviamo verso l'area l'area pranzi le solite tavole imbandite abbiamo abbiamo anche gli eredi i futuri di pasquetta e vi ricordo che questa pasquetta è offerta da r costruzioni srl san giorgio canavese grazie